Mi chiamo Paola Gullino, sono un'agronoma, una ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali Alimentane del Sede di Torino e ho il dottorato al Politecnico di Torino sulla storia dei giardini. Da diversi mesi stiamo facendo un interessantissimo progetto di ricerca volto alla valorizzazione e fruizione del parco di Casa Laiolo, quindi il nostro lavoro è stato principalmente quello di ricostruire le vicende sia delle famiglie che si sono susseguite nel tempo dal 600 fino ad ora, sia proprio capire come si è evoluto il giardino nel corso del tempo. Numerosissime informazioni sono state raccolte presso l'archivio privato della famiglia Laiolo qui a Piossasco e dalla analisi di questa documentazione è stato possibile quindi ricostruire il giardino, individuare le permanenze storiche, quindi intese sia come specie, arbore principalmente presenti ancora adesso, sia proprio come strutture del giardino legandolo a un impianto specifico riconoscibilissimo che è il giardino all'italiana, quindi con i parterre di bosso che possono considerarsi l'anima del giardino di Casa Laiolo.